Isaia 35 3 dice Rafforzate le mani deboli, e rendete ferme le ginocchia che vacillano. Servire fianco a fianco con i nostri fratelli e sorelle, promuove l'unità. Ci permette anche di stringere amicizie e durature, e di aiutarci l'un l'altro a rafforzare la nostra fiducia nelle benedizioni che il Regno di Dio porterà presto. Rafforzando le mani di altri, li sosteniamo mentre lottano contro circostanze difficili, e li incoraggiamo a guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Fare questo rafforzerà anche le nostre mani, perché ci aiuterà a rimanere concentrati sulle cose spirituali e a consolidare la nostra fede nelle promesse di Dio per noi. Se ci soffermiamo a riflettere sulle diverse occasioni in cui Geova ha sostenuto e protetto i Suoi fedeli servitori del passato, la nostra fede e la nostra fiducia in Lui cresceranno. Quando siamo sotto pressione o affrontiamo dei problemi, non facciamoci scoraggiare. Al contrario, rivolgiamoci a Geova in preghiera, sicuri che la Sua potente mano ci rafforzerà e ci guiderà verso le benedizioni del Regno. Grazie a tutti.